o bene buongiorno amici campagnoli oggi un video un po diverso vi mostrerò come ho realizzato la mia casetta per le quaglie dopo vari tentativi sono arrivato a questo progetto finale anche perché bisogna tenere in considerazione il fatto che le quaglie sono animali che hanno la caratteristiche di saltellare anche questo video dura pochissimi minuti quindi non è impegnativo spero sia utile questo video a chi vuole costruire una gabbietta per le quaglie sono arrivato a questo progetto dopo vari tentativi ritengo sia quello più adatto allora in un primo momento ne avevo costruito una realizzata e con un accesso laterale esattamente quella che vedete alle mie spalle poi ho preferito modificare il progetto e ne ho realizzata una con un'impostazione diversa vi mostrerò le fotografie con i vari passaggi ho realizzato l'apertura da sopra dall'alto così da avere una migliore gestione della gabbietta e degli animaletti all'interno per le pareti ho utilizzato una rete di plastica con maglia quadrata di piccole dimensioni ecco questa parte chiusa costituisce la loro vera e propria casetta da lì si vede l'accesso dove loro possono benissimo ripararsi dalla pioggia e anche dal freddo vi ringrazio come sempre per la vostra visione spero di avere migliorato l'audio sto utilizzando un microfonino con la speranza di avere un audio migliore mi scuso per quelli precedenti al prossimo video se non volete perdervi qualche puntata delle mie pillole in video cliccate la campanellina